ciao e bentornato con questo video vado a presentarti il nuovo progetto una scala in legno massello documenterò l'intera realizzazione cercherò di renderla meno pesante possibile dividendo il progetto almeno in quattro parti come puoi vedere ho realizzato un piccolo progetto guida con sketchup giusto per impostare l'estetica della stessa perciò se hai dei suggerimenti scrivono qui sotto nei commenti se questo breve video è stato di tuo gradimento fammelo sapere lasciando un like e un commento se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti e se puoi condividi questo video sui tuoi social ciao